con questo video tutorial vediamo come presentare la domanda di mobilità annuale in organico di fatto cioè quella di utilizzazione oppure di assegnazione provvisoria o entrambe ricordiamo che una volta fatto il login per entrare sulle istanze online il sistema riconosce il docente e ne riconosce la sua sede di titolarità per cui il sistema sa il grado e l'ordine di istruzione dove il docente è titolare una volta quindi entrati per andare a presentare questa domanda si va in questa istanza che vedete presentazione domanda mobilità in organico di fatto questo vale per tutti i docenti che possono presentare domanda con le istanze online stiamo parlando di tutti i docenti entrati in ruolo neoassunti prima del 23 24 e anche dei docenti entrati in ruolo del 23 24 purché si trovino con uno status attuale di contratto a tempo indeterminato tutti costoro utilizzeranno questa compilazione potranno andare vai alla compilazione ed entreranno nel nella pagina dove si potranno avere notizie informazione sulla privacy e sui dati personali bisogna cliccare su ho letto e accetto i termini le condizioni legali per delle dei dati personali dell'informativa sulla privacy quindi si può fare tranquillamente avanti avendo fatto avanti si entra in primis dentro una pagina di informazione dei dati personali dunque informazioni anagrafiche e della condizione di titolarità del docente facendo nuovamente avanti si entra in questa pagina dove si può presentare la domanda di mobilità in organico di fatto e dalla possibilità di vedere quali sono le domande disponibili che il docente può fare e da questo menu a tendina si può vedere che può fare con la scuola di titolarità di secondo grado e dunque farebbe la domanda sullo stesso grado che per le assegnazioni provvisorie è obbligatoria poi può scegliere di fare se ha un grado diverso di istruzione anche la scuola per esempio secondaria di primo grado se avesse l'abilitazione anche per insegnare nelle scuole di secondaria di primo grado noi in questo caso manteniamo il grado di titolarità e indichiamo il grado e la del secondo grado ecco che si apre subito una disponibilità per fare tre possibili situazioni si può scegliere una provincia per l'assegnazione provvisoria e dunque scegliere la provincia per esempio ammettiamo che si voglia fare una domanda di assegnazione provvisoria per catania e dunque si mette catania e quindi si può inserire la domanda di assegnazione provvisoria facendo cliccando su inserisci qua abbiamo la possibilità di inserire l'utilizzazione provinciale si può cliccare qui e si inserisce da questo tasto si può fare l'utilizzazione interprovinciale nel caso la classe di concorso di titolarità fosse in esubero comunque immaginiamo di fare l'assegnazione provvisoria dunque facendo inserisci noi entriamo nel campo della domanda il campo della domanda che andrà compilato passo dopo passo ecco come fare per compilare la sezione di delle precedenze perché è la prima delle sezioni che noi incontriamo nel modello di domanda andiamo ad aprire la sezione di e andiamo a trovare nella sezione di tutti 15 15 precedenze che sono in ordine di importanza dalla numero 1 scendiamo alla numero 15 la curiosità è che per esempio la precedenza numero 10 che in questo caso è possibile selezionarla non sarà possibile selezionarla nel caso di assegnazione provvisoria provinciale perché in quel caso la precedenza vale solo per i figli di età inferiore 6 anni e non per i figli di età inferiore 12 anni che invece vale per le assegnazioni provvisorie su altra provincia come vedete andiamo a catalogare queste 15 precedenze allora la numero 1 è riferita al personale non vedente che se ha questa precedenza che la più alta di tutti dovrà mettere sì e chiaramente come vedete quando si mette una precedenza se si mette una precedenza il sistema non dà più possibilità di metterne altre perché la precedenza che si può usufruire è una sola quella più alta per cui se invece non ce l'abbiamo e mettiamo no vedete che abbiamo la possibilità di mettere le altre e così via la precedenza numero 2 è riferita al personale docente che è e modializzato se si mette sì si blocca tutto il sistema come vedete al di sotto non si può mettere altro se si mette no invece è possibile mettere altre precedenze come potete come si può vedere la precedenza numero 3 è riferita all'articolo 21 ed è per una situazione di handicap personale che deve essere secondo l'articolo 21 della legge 104 di almeno i due terzi ad avere un articolo 3 comma 1 di diciamo stato di handicap cioè non grave e in questo caso chi possiede questo tipo di precedenza mettendosi termina il suo la sua compilazione andando avanti noi abbiamo la compilazione numero 4 la precedenza numero 4 riferita alle ai al bisogno delle cure continuative in un dato comune si deve scegliere il comune della provincia e si inserisce al sistema la precedenza numero 5 è riferita all'articolo 33 comma 6 sulla propria persona un handicap di stato grave sulla propria persona la precedenza invece numero 7 è riferita al la precedenza in caso di assistenza al coniuge, la numero 8 in caso di assistenza al genitore, la numero 6 che l'avevamo saltata è in caso di docente che deve assistere i figli. Dunque 6 la precedenza per assistenza ai figli, 7 per assistenza al coniuge, 8 per assistenza al genitore. La numero 9 è riferita alle lavoratrici madri o lavoratori padri con figli di età inferiore di 6 anni ed è una precedenza che vale sia per le assegnazioni provvisorie provinciali che interprovinciali. Invece la numero 10 vale solo per le interprovinciali ed è riferita ai lavoratori padri o lavoratrici madri che hanno figli di età compresa fra i 6 e i 12 anni. La numero 11, il riferimento alla precedenza numero 11 è per l'assistenza a parenti ed affini entro il terzo grado qualora non abbiano un'età tale che il proprio coniuge non può prendersi cura di loro perché è ultra 65enne. La precedenza numero 12 è riferita ai docenti che hanno cessato il collocamento fuori ruolo e rientrano nel ruolo. La precedenza numero 13 è riferita a coloro che hanno i coniuge militare con indennità di pubblica sicurezza o che è stato trasferito d'ufficio per motivi di lavoro in altra provincia. Dunque il coniuge convivente ha diritto alla precedenza per seguire il proprio coniuge. La numero 14 invece è riferita a coloro che hanno incarichi politici mandati politici in pubbliche amministrazioni come comuni, province, regioni e dunque o comunque negli enti locali e dunque hanno diritto nel nella fase del loro mandato alla precedenza precedenza che diciamo una precedenza che funziona solo in stato di mandato e per ultimo il personale che riprende servizio al termine di un'aspettativa sindacale ha diritto nella provincia in cui ha svolto la funzione sindacale per almeno tre anni di questa precedenza. Ecco queste sono tutte le precedenze per le assignazioni provvisorie. Speriamo che questo video sia utile a tutti quanti coloro che devono fare questa domanda e che hanno una precedenza da esprimere si ricorda che la precedenza è una sola che si può esprimere quella più alta. Con questo video andiamo a vedere come compilare la sezione F delle esigenze di famiglia nelle domande di assegnazione provvisoria sia provinciale e sia interprovinciale. In questo caso stiamo compilando una domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Andiamo nella sezione F, la apriamo e troviamo questi punti. Il punto 16 è il ricongiungimento al coniuge, al convivente o parte dell'unione civile o al familiare nel comune di. al familiare si intende o il genitore o il figlio piuttosto che proprio il coniuge. Diciamo che la scelta del ricongiungimento è libera, non c'è un vincolo. Anche per i coniugati è possibile ricongiungersi al genitore per esempio nel comune di residenza del genitore. Si sceglie il comune di residenza. Avevamo fatto la domanda per la provincia di Catania, dunque si può selezionare per esempio il comune di Catania. Si indica il comune di Catania se il genitore è residente in tale comune. E poi si indicano i numeri di figli di età inferiore ai 6 anni. Se per esempio si ha un figlio di età inferiore ai 6 anni si indica 1 e se si hanno figli di età compresa fra i 6 e i 18 anni si può indicare l'altro figlio in questa casella. In questo modo si sono così indicati il ricongiungimento che vale 6 punti, figlio di età inferiore a 6 anni che vale 4 punti e il figlio di età compresa fra 6 e 18 che vale 3 punti per un totale di 13 punti. La casella numero 19 qualora dovesse essere compilata è una scelta di un comune dove si assiste, c'è una clinica, una casa di cura che assiste un coniuge, un familiare minorato, un figlio minorato o tossico dipendente. Dunque c'è questa possibilità di prendere altri 6 punti oltre quelli del comune di ricongiungimento anche in altro comune diverso da quello di ricongiungimento purché tale comune ricada nella provincia di Catania. Speriamo che tale compilazione sia facile, sia semplice, che tale spiegazione possono essere utile a tutti i nostri telespettatori. Seguiteci nei nostri canali Facebook, YouTube, le nostre dirette su argomenti riferiti proprio alla mobilità annuale e se avete da porre domande ponete le domande nelle dirette proprio dedicate a questo tema. In questo video tutorial andremo a vedere come compilare le sezioni G1 e la sezione G2. La sezione G1 si compila solo per i titolari su altro ordine di scuola. Siccome stiamo compilando la domanda di assegnazione provvisoria sull'ordine di scuola di titolarità, in questo caso la sezione G1 non consentirà compilazione. Avremmo potuto compilarla solo se fossimo in un altro ordine di scuola che non è l'ordine di titolarità. Per cui questo G1 non va compilato se stai compilando la domanda di assegnazione provvisoria per l'ordine di scuola in cui sei titolare e a questo punto va compilata invece la sezione G2 che porta delle possibilità, delle opportunità. Non è un obbligo compilarla però per esempio al punto 24 se si vogliono richiedere cattere articolate su più scuole in nello stesso comune oppure anche in comuni diversi basta selezionare questo tasto. Questo amplia di molto le probabilità di riuscita della domanda. Il docente può chiedere anche posti riferiti a inferiori alla durata dell'anno intero e dunque può esprimere il sì piuttosto che il no. il docente può anche chiedere l'unione di spezzoni compatibili con l'orario di servizio. Dunque è bene magari chiederli per ampliare ancora di più la portata del successo della domanda. nel caso di part time come si vede qua si può dire di essere in part time e in quel caso dovete dichiarare quante ore settimanali di orario fate col part time. Se non avete part time scrivete no. Ecco questo in breve la compilazione della sezione G1 e G2. Con questo video tutorial andiamo a compilare la sezione H e la sezione M. Queste due sezioni. La sezione H è la tipologia di posto richiesta che è obbligatoria per poter salvare la domanda. Allora andando sulla sezione H prendola vediamo che abbiamo al punto 26 la tipologia dei posti richiedibili di sostegno suddivisi perché è una scuola secondaria di secondo grado tra vista, udito e psicofisici. Questa va selezionata solo qualora si abbia il titolo di sostegno oppure non avendolo se si ha almeno un anno di insegnamento su sostegno anche a tempo determinato o se si sta per concludere il corso di formazione DFA proprio per la specializzazione del sostegno. Dunque questa tipologia di posto va indicata solo in situazioni particolari. Il numero 27 è per quello che riguarda i posti normali almeno una di queste va cliccata per poter salvare la domanda. Nel numero 28 il docente non in possesso come dicevamo prima della specializzazione ha due opzioni o sta per concludere il corso di specializzazione del sostegno e dunque ha diritto ad avere i posti di sostegno oppure invece di questa opzione ha diritto a chiedere i posti di sostegno si è presentato almeno un anno di sostegno. Questo per la richiesta interprovinciale di assegnazione interprovinciale come nel caso in specie. Dopodiché si può salvare questa richiesta, questa domanda. La sezione M invece consente di, nello stesso ordine di istruzione, bisogna riprendere altre classi di concorso per cui non si è titolari ma si è abilitati nello stesso grado. Per esempio siccome stiamo parlando del secondo grado, essendo titolare di matematica e fisica uno potrebbe chiedere anche solo la fisica e dunque indicare la 020 oppure la 026 solo matematica e indicare purché si sia superato l'anno di prova e purché si abbia l'abilitazione verso questi insegnamenti per cui si può poi fare salva e il sistema salverà correttamente la domanda completata anche la sezione M. Così andando poi a rivedere la compilazione delle sezioni D, F, G1, G2, HM ci si potrebbe spostare, cosa che vedremo col prossimo video, sulle preferenze. Dunque andando a cliccare su preferenze e dunque andando a inserire le preferenze. Con questo tutorial vediamo come passare dalle sezioni della domanda alla compilazione delle preferenze. Si clicca su preferenze e si inseriscono fino a un massimo di 15 preferenze. Per aggiungere una preferenza si clicca su aggiungi preferenze. Ricordiamoci sempre che il comune di ricongiungimento deve essere necessariamente, le scuole del comune di ricongiungimento e il comune di ricongiungimento devono avere diciamo posizione prioritaria nella preferenza. Siccome avevamo scelto il comune di Giarre dobbiamo vedere a quale distretto il comune di Giarre appartiene nella provincia di Catania. Andiamo a verificare in quale distretto troveremo il comune di Giarre e così dovremo inserire questo comune con valore prioritario. Ecco il comune di Giarre. Dunque abbiamo due possibilità di poter indicare o direttamente il comune di Giarre e dunque mettere direttamente questa preferenza e quindi salvare questa preferenza facendo salva oppure non selezionando il comune ma selezionando le scuole del comune. Dunque facendo clic su questo tasto più all'altezza del comune di Giarre si apriranno tutte le scuole del comune di Giarre come per esempio l'istituto di istruzione superiore Fermi Guttuso per cui si può indicare questo oppure l'istituto di istruzione superiore Leonardo che va benissimo l'istituto di istruzione superiore Amari e va benissimo dopodiché si mette anche il comune di Giarre si fa salva e vedrete immediatamente avendo fatto il salva che sono state acquisite a sistema queste preferenze che con la quarta preferenza chiude il comune di Giarre significa tutte le scuole del comune di Giarre. A questo punto si possono mettere una quinta una sesta fino a una quindicesima preferenza potendo aggiungerne altre per esempio il comune di Catania oppure le scuole del comune di Catania partendo dal distretto 12 per esempio dove si hanno delle scuole tipo l'istituto Fermi oppure il Vaccarini o l'istituto tecnico Archimede vengono inserite queste scuole dopodiché metteremo anche tutto il comune di Catania in modo da poter poi salvare e avere così le preferenze inserite al sistema in maniera precisa e puntuale e in questo modo. Se si volessero spostare delle scuole per esempio si preferisce avere il Vaccarini sopra il Fermi basta fare col tasto con la freccia verso sopra inserire e avere questo scambio oppure se l'istituto tecnico Archimede si preferisce rispetto al Fermi si fa così o altrimenti il Fermi sempre in testa e si fa così in modo tale da poter sistemare le scuole come meglio si crede per esempio se si vuole come prima scuola all'istituto di istruzione Leonardo basta fare così e sia come prima ecco poi si possono sistemare come meglio si crede tutto il si consiglia di chiudere per avere una maggiore possibilità di soddisfazione l'obiettivo della assegnazione con la provincia di Catania dunque selezionare la provincia di Catania significa come ultima delle preferenze possibile dire datemi una scuola qualsiasi di che su questa provincia chiaramente queste preferenze varranno per la intanto per la classe di concorso di titolarità ma anche per tutte quelle classi di concorso dello stesso grado che si sono indicate come abbiamo fatto vedere nel video precedente della sezione M speriamo che questo video sia utile ai nostri telespettatori seguiteci ancora perché daremo tante informazioni su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a presto grazie a tutti